Buongiorno a tutti, sono Paolo Musconi, direttore generale di TESMEC. Abbiamo voluto esporre una fotografia esemplificativa. È un concentrato di soluzioni tecnologiche che partendo dalla 4.0 e quindi dalla digitalizzazione del prodotto vede uno sviluppo tenendo in considerazione un driver importantissimo che è quello della sostenibilità e oggi è mandatorio per essere competitivi ma che vogliamo ulteriormente evolvere mediante le tecnologie e le piattaforme cloud con dirigenza artificiale per rendere fruibile a una platea più vasta delle soluzioni complesse.